Sì, le cose stanno peggiorando per i tagli ai comuni, che ormai credo tutti siano in grado di capire, e anche perché sparisce anche il lavoro nero, non solo quello regolare. Quindi anche i clandestini che lavoravano in nero non hanno più neanche questa fonte di reddito e quindi anche quelli che ce ne sono non avrebbero voglia di fare atti illeciti, magari sono costretti a farlo. Quindi bisogna stare sempre più attenti, questo non significa essere sempre comunque accoglienti. Quando uno sgarra bisogna fargliela pagare. E per fare in modo di non disperdere energie, parlarsi tra amministratori. I bravi amministratori, lo ripeto, non hanno un colore politico. O sono bravi a amministrare o non sono bravi a far nulla. Quindi il partito non aiuta a diventare più bravi, qualsiasi partito sia, anche quello al quale appartengo io. Fare squadra significa copiare dagli altri qualcosa che funziona, non vergognarsene, non perdere il tempo a cercare di inventare l'acqua calda perché qualcuno l'ha già inventata prima di lui.